Non sono mancati momenti di tensione e polemiche durante la discussione sull'approvazione del bilancio 2012 della Regione Abruzzo. Con noi c'è Marinella Sclocco, consigliera regionale del Partito Democratico. Ma Sclocco, che bilancio è quello che oggi è uscito dal Consiglio regionale? È un bilancio che assolutamente non ci soddisfa, è un bilancio bloccato, che non prevede investimenti e quindi progettualità e futuro per la Regione Abruzzo, che a malapena riesce a temporare malamente, dico, le emergenze. È un bilancio che è bloccato fermo ormai da due anni, che non dà delle risposte concrete ai cittadini che in questo momento di crisi stanno soffrendo, forse in Abruzzo in maniera più forte rispetto che nelle altre regioni d'Italia. Tutta l'Italia in ginocchio è l'Abruzzo di più. C'è un terremoto, c'è una ricostruzione che non parte, c'è una sanità che ha lasciato un debito, che è ancora in debito. C'è un IRPEF già allo 0,50 che crescerà in Abruzzo a causa del decreto Monti ad 1,73, quindi ancora tasse, non ci sono fondi per lo sviluppo, il patto è fermo, i FAS non arrivano, insomma assolutamente una Regione bloccata. Secondo lei su che cosa si poteva intervenire invece? Certamente promuovendo delle riforme vere e proprie, delle riforme che guardassero in avanti al futuro. Investire sulle politiche sociali, investire sul welfare, investire sulle famiglie, investire sui territori, anche sui trasporti, sbloccare i commissariamenti, significa guardare avanti, andare oltre e magari investire su delle forme, su dei progetti che poi magari produrranno, potrebbero produrre economia. Invece no, non si investe sul sociale, non si dà sostegno alle famiglie, le imprese sono bloccate, non si investe sui confidi che in qualche modo potrebbero, come dire, rimuovere, smuovere l'economia. I commissariamenti sono ancora tutti in atto e su questo Chiodi deve rispondere. Anche la sanità si taglia in maniera orizzontale, senza progettualità, senza farci capire che cosa vorrà fare Chiodi direttamente domani.